I comuni di Giulianova, Martinsicuro, Albadriatica e Tortoreto chiedono il ripristino del posto di polizia estivo. Ci si aspetta una risposta positiva, almeno per quest'anno? Noi avevamo ottenuto il posto di polizia sulla costa, come ricorderà, nel 2010, facendoci carico, come quattro comuni, delle spese di vitto e alloggio. Quindi un grosso peso economico sulle casse dei nostri enti. Era stato approntato per l'anno 2010, poi per il 2011, 2012, 2013 e 2014. L'anno scorso non è stato riproposto. Noi chiediamo con questa richiesta inviata al Sua Eccellenza, il Prefetto Crudo e il Questore di Teramo, Febo, di ripristinare questo servizio che nel quinquennio aveva dato dei frutti importanti, perché ci consentiva di approntare una macchina che durante le 24 ore, nei mesi estivi, girava sulla costa e quindi nelle nostre quattro città, che sviluppano, lo ricordo, milioni di presenze turistiche e sicuramente aumentano la percezione di rischio per la nostra sicurezza. Speriamo che quest'anno ci sia la sensibilità per riproporre questo servizio così importante per la sicurezza dei cittadini, dei residenti e dei turisti. Grazie.